Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento del sabato con il TMV News, tanti temi come sempre da trattare dalla lotta a Scudetto alla Roma che ha conquistato l'accesso all'Europa League, se la vedrà nella prossima settimana in finale di conference con il Feyenoord, naturalmente ci occuperemo anche di mercato, andiamo subito però a salutare, è già in collegamento con noi Franco Zuccalà, ciao Franco, buonasera. Ciao, saluto a tutti. Prima di parlare del Milan e della lotta a Scudetto ti volevo coinvolgere sulla Roma che è entrata in Europa League, ieri ha battuto il Torino e adesso si prepara la finale di conference, per come l'abbiamo vista dal punto di vista della condizione generale, può farcela, che pensi? Confido anche nei tempi perché il Feyenoord, i campionati hanno tempi diversi, noi siamo diciamo in piena forma, le nostre squadre adesso, anche se qualcuna è demotivata, la Roma è motivatissima. E poi ha trovato Abraham che è diventato il cannoniere principe, anche un vero e proprio leader, probabilmente quando è stato acquistato, si pensava che la cifra di 40 milioni fosse eccessiva, fosse particolarmente elevata, invece non è stato così. No, no, Abraham sta dimostrando di essere un cannoniere pregiato del nostro campionato e ha risolto parecchi problemi alla Roma che aveva dei, così delle mancanze, delle manchevolezze in difesa. Parliamo dunque della lotta a Scudetto, domani il verdetto, il Milan al 90% può in questo momento dire di aver vinto lo Scudetto? Io non posso dire al 90% perché mi sono sbilanciato in qualche trasmissione, c'è dalla RAI, io ho detto 70-30. Eh, questo 70-30 come lo motivi? Lo motivo col fatto che il Milan proprio dovrebbe, va bene, l'andata ha perso anche col suo solo in casa 1-0, ma comunque voglio dire c'è la motivazione, il traguardo è lì e difficilmente se lo farà sfuggire. L'Inter, come sappiamo, il campionato avrebbe potuto vincerlo passando a Bologna, stava vincendo, poi c'è stato una serie di errori in difesa, specialmente quello del portiere in occasione del gol della vittoria del Bologna e lì forse l'Inter ha perso il campionato. Partita, diciamo, complicata quella di domani per il Milan, perché il Sassuolo comunque è un avversario che ha creato parecchi problemi alle big, però al tempo stesso va detto che la squadra di Pioli contro avversari difficili ha sempre saputo interpretare bene la partita anche negli ultimi tempi, contro l'Atalanta, contro la Fiorentina e alla fine ne è uscita vincitrice dalla formazione rossonera. Il Sassuolo, io l'ho definito l'ammazza grandi quando ha fatto quella serie di vittorie su campi importanti. Per quanto concerne il Milan, aveva qualche problema all'attacco, ma nelle ultime partite l'ha risolto grazie anche al Leao, che si sta rivelando veramente l'uomo più importante per quanto riguarda la fase d'attacco. Senti, invece parlando del Napoli, la formazione partenopea adesso è già proiettata ovviamente sul futuro, ci sono state ieri delle dichiarazioni da parte del Presidente De Laurentiis a proposito di Coulibaly e anche di Osimène. Coulibaly ancora non è certo della sua permanenza al Napoli, sarebbe una partenza pesante per i partenopei, anche se comunque dopo tanti anni si può anche pensare ad una cessione di questo genere. Ma sai, lì ci sono i contratti che ormai sono contratti capestro, spesso a favore dei giocatori e naturalmente se c'è qualcuno che offre di più, chiaramente Coulibaly è un giocatore quasi a fine carriera e quindi cercherà di monetizzare la sua fama internazionale. E su Osimène invece ti aspetti che possa arrivare questa offerta clamorosa che possa inevitabilmente far partire? La offerta clamorosa chiunque lo farebbe partire, perché non puoi tra l'altro impedire a un giocatore di andarsene con le nuove regole, e quindi praticamente lo tiene lì, tiene uno scontento che magari poi ha dei contraccolpi questo suo scontento. Senti, invece la lotta a salvezza, in questo momento il Cagliari sembra penalizzato, anche da un punto di vista proprio dei punti rispetto alla Salernitana, però anche in questo caso può succedere di tutto. Ma sai, la Salernitana ha fatto una serie di prodezze nella fase finale della stagione, il Cagliari invece ha fatto una serie di disastri, è stato mandato via Mazzarri, insomma è in un momento difficile anche come società. Eh sì, soprattutto la società non sembra aver gestito bene questa stagione, sia dal punto di vista degli allenatori che anche dei vari acquisti che sono stati fatti sia in estate che a gennaio. Ma i giocatori ci sono, perché sai, o Pedro i suoi gol li fa, c'è qualche altro a centrocampo, c'è Grassi eccetera, hanno dei giocatori abbastanza buoni, soltanto che al momento opportuno non hanno reso come prevedibile. Il Genoa invece torna in Serie B, c'è stato il passaggio di proprietà quest'anno da Preziosi al gruppo americano, Preziosi era stato a lungo criticato per come gestiva la società, però comunque poi alla fine riusciva sempre in qualche modo a rimanere in Serie A, e invece quest'anno è arrivata la retrocessione. Detto che io chiamo il campionato italiano il Soccer League, perché meglio parlare inglese o americano se vuoi, perché tutti i proprietari sono quasi stranieri, specialmente americani. Gli americani non sanno niente di calcio, come sai. Io quando ero lì mi dicevano, ma che razza di sport è il vostro dove c'è il pareggio? Il pareggio nei nostri sport non esiste, perché qualcuno deve vincere. Comunque detto questo, certamente non è stata una gran bella esperienza per gli americani, che forse credevano fosse tutto più semplice. Franco, grazie mille come sempre. Buona serata. Arrivederci a tutti. Andiamo adesso a salutare il direttore di TNF Radio, Niccolò Ceccarini. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti. Eccoci qua. Diciamo subito che sei in forma come non mai. una condizione fisica generale che ti vede al top. Non accadeva da una decina d'anni. Sì, questo lo dicevi te prima di fare questo collegamento. Non lo so se è vero, però... No, 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 lo dicevi più la verità. Sì, va bene. Diciamo che stiamo facendo il possibile per stare più in forma. Però credo che questo non interessi più di tanto ai nostri ascoltatori. Comunque sì, dai, cerchiamo di mantenere una linea dignitosa. Assolutamente. Ai nostri telespettatori interessa sapere quali sono le mosse di mercato che in questo momento sono più avanti, le trattative che in questo momento sembrano poter perfezionarsi. Da chi partiamo? No, io partirei dalla Juventus perché comunque c'è molto movimento in casa bianconera. Tra l'altro sono un po' cambiate anche le strategie rispetto al recente passato. Io mi aspettavo determinate mosse su Giovani, su Zaniolo, su Raspadori, con la volontà della Juventus di andare velocemente a fare o un'offerta o quantomeno a portare avanti una trattativa per chiuderla entro la fine del mese di giugno. In realtà la Juventus in questo momento sta lavorando anche sui giocatori a parametro zero. Io oggi nell'editoriale di tutto il mercato web ho scritto proprio di Di Maria perché lui ieri sera ha annunciato ufficialmente il suo addio al Paris Saint-Germain. La Juventus è pronta a fargli questa offerta da 7-7,5 a stagione, più un'opzione per la prossima. È chiaro che il Fideo vuole in qualche maniera rimanere ancora un altro anno almeno in Europa e Di Maria potrebbe essere un'ottima soluzione per l'attacco. Giocatore di 34 anni, ma per la personalità e anche per la capacità di interpretare il ruolo di esterno alto d'attacco, di attaccante esterno, può dare una mano anche in attesa del rientro di Federico Chiesa. Per cui io credo che questa sia una soluzione, una scelta che loro abbiano fatto anche per una necessità di avere un grande giocatore in un eventuale tridente d'attacco. Quindi Di Maria, per quanto riguarda la Juventus, operazione molto avanzata. Poi c'è Pogba e qui di fronte a Pogba c'è poco da aggiungere. Se c'è una scelta di cuore, Pogba vestirà la maglia della Juventus. Se c'è una scelta di soldi, solo prettamente economica, allora sarà un giocatore del Paris Saint-Germain. Però c'è fiducia, in caso è bianconera, che questa cosa possa in qualche modo andare nella direzione giusta. Cioè che alla fine Pogba scelga di ritornare indietro laddove tutto è cominciato, laddove è cominciata la sua grandissima carriera. E poi io credo che ci sia da affrontare anche l'argomento Morata. Lorenzo, perché su Morata mi sembra abbastanza chiaro il pensiero della Juve. Non lo riscattiamo a 30-35 milioni di euro, come era stato fissato con l'Atletico Madrid. Lo prendiamo a 15 milioni di euro. E a questo punto resta da capire se l'Atletico Madrid, che sa benissimo che comunque non rientrerà nei suoi piani, concederà questo super sconto, perché stiamo parlando ovviamente della metà, almeno della metà della cifra, alla Juventus. E per quanto riguarda il centrocampo della Juventus, ti aspetti altri innesti, oltre a quello di Pogba, perché si era parlato anche di altri calciatori, Giorgino, ad esempio. Sì, sì, io Lorenzo lì mi aspetto un regista, mi aspetto un giocatore che abbia questa capacità, cioè di gestire il gioco, di far partire l'azione. Io credo che con il Chelsea non sia semplicissimo, ma per i motivi per i quali tutti sanno, c'è stato da poco il passaggio di proprietà e quindi magari dovranno esserci dei tempi leggermente più lunghi, però Giorgino potrebbe essere la soluzione ideale. Così come anche Paredes. Paredes offre un'alternativa in più nel caso d'Allegri, perché Paredes, lo ricordiamo tutti, nasce come trequartista, un po' come era Pirlo, che poi si è trasformato in un grandissimo regista e lui ha fatto questa evoluzione nel ruolo. Nel Paris Saint-Germain comunque gioca da regista, ma può sempre fare la mezzala all'occorrenza. Quindi è vero che costa almeno 30 milioni di euro, però un giocatore che ti può fare? Sia la ripartenza dell'azione che la mezzala vera. Io non so, per esempio, in casa Juve, se dovesse arrivare un'offerta per McKennie, magari loro potrebbero anche decidere di far partire McKennie e quindi sostituire magari McKennie proprio con Paredes che gli può fare il doppio ruolo. Quindi sì, secondo me alla fine i centrocampisti saranno due della Juventus. Ecco, parlando dell'Inter, a tuo parere ci sono ancora margini per poter trattenere Perisic? L'offerta per l'ingaggio potrebbe essere alzata? Secondo te, ecco, qual è la situazione in questo momento? Io credo che l'Inter abbia una sorta di prelazione nei confronti di Perisic, nel senso che Perisic voglia affrontare l'argomento del suo futuro prima di tutti con l'Inter. Nel senso, è vero che la Juventus può essere lì alla finestra perché Perisic ha fatto una straordinaria stagione, perché è stato sicuramente il giocatore che ha dato di più probabilmente insieme a Brozovic all'ambiente nero e azzurro dal punto di vista della squadra. È stato sempre, spesso e volentieri decisivo, però è tanto vero che in questo momento Perisic vuole parlare prima con l'Inter. Quindi lui farà primo rasonamento con l'Inter, dopodiché secondo me prenderà in considerazione altre offerte. Io forse un piccolo sforzo l'Inter lo fa, Lorenzo, nel senso che da 4,5 può arrivare a 5, però gli offrirà un biennale da 5 milioni di euro, non oltre, cioè non credo si andrà a 6 milioni di euro. Lì dipenderà molto anche dal giocatore, però il passaggio centrale è prima si parla con l'Inter e poi si valuta altre opzioni. Anche se quelle dichiarazioni di Perisic dopo la conquista della Coppa Italia avevano fatto un po' pensare, no? Perché comunque c'è stato un po' di risentimento da parte di Perisic su un modo in cui è stato trattato. Questo è vero, Lorenzo, però io conosco molto bene Beppe Marotta, lo conosco da una vita, e quando lui manifesta fiducia su un argomento è perché evidentemente ha degli elementi che lo portano ad esprimersi o andare in una determinata direzione con una certa fiducia, con una certa speranza. E quindi se lui si è dichiarato abbastanza fiducioso o ottimista è evidente che comunque al di là del Sassolino, Sassolone che si è tolto Perisic dopo la finale di Coppa Italia c'erano dei segnali che lo potevano portare a pensare questo. Così come, per esempio, non ne abbiamo ancora parlato perché ci siamo soffermati su Perisic, ma visto che è legato all'Inter è questione veramente di poco il rinnovo di Andanovic. Credo che alla fine abbia accettato un anno con opzioni per quello successivo. Volevo anche parlare della Roma, è chiaro che i giallorossi adesso sono concentrati sulla finale di conference, però comunque qualche movimento è già in programma. Mi riferisco anche ad alcune partenze, ad esempio quella di Veretout sembra essere, non dico probabile, ma comunque possibile. Sì, Veretout, verso l'estero, si parla molto anche del Marsiglia che potrebbe essere una sua prossima destinazione. Sei Veretout non rientra più nei piani di Murigno, l'abbiamo capito. Poi c'è stata anche una situazione di nonni al grande impiego in questa stagione, un giocatore che peraltro comunque secondo me è molto bravo, per cui il mercato non mancherà. Lì dipenderà anche da quelli che sono le sue volontà dal punto di vista del campionato da affrontare, se vuole restare ancora in Italia oppure se vorrà andare all'estero. Per quanto riguarda il discorso, secondo me fondamentale, io credo che potrebbe anche, te l'ho detto, andare in Francia. Ecco, io ho questa sensazione e la valutazione è 15 milioni di euro. Si parlava anche del Napoli, però non mi sembra che l'argomento Napoli in questo momento sia particolarmente caldo, Lorenzo. A proposito dei centrocampisti, Vesino sembra essere pronto a riabbracciare il suo vecchio tecnico Sarri alla Lazio per tante squadre in Italia, alla fine anche alla Lazio dovrebbe approdare dopo tanti anni all'Inter. Guarda Lorenzo, la Lazio sta facendo quello che magari non ha fatto fondamentalmente nelle ultime due sessioni di mercato, perché Sarri si aspettava molto quando è arrivato e si aspettava molto anche nel mercato di Gennaio, che poi alla fine ha portato Cabral e basta. Quindi alla fine non è che è stata modificata molto la squadra. Si lavora su questo parametro zero? Sì, è vero. Mattias Vesino, giocatore che comunque a lui è sempre piaciuto molto. È chiaro che il mercato della Lazio passa, c'è stato comunque sia ormai, lo possiamo dare per ufficiale, anche l'arrivo di Marcos Antonio dallo Shakhtar, quindi un'operazione da otto più bonus, quindi prendono anche lui. Secondo me lavoreranno anche su un esterno. C'è il discorso anche del difensore centrale, parte a Cerbi, potrebbe arrivare un altro giocatore. C'è un'idea a Rugani, ma non è che è stato assolutamente, secondo me, impostato in maniera così importante da dire siamo veramente vicini alla conclusione, questo scambio Rugani a Cerbi con la Juventus. È un'idea che in questo momento c'è e poi soprattutto il mercato della Lazio ruoterà Lorenzo fondamentalmente su due giocatori in uscita. Il primo è Milinkovic-Savic e il secondo è Luiz Alberto, perché se esce Milinkovic-Savic ed esce anche Luiz Alberto, se uno sta dietro alle richieste di Lotito, 70 Milinkovic-Savic, 30 Luiz Alberto, sul certo potenziale milioni di euro che la Lazio ha da poter mettere sul mercato. Per Milinkovic, dal mio punto di vista, credo che Milinkovic andrà fondamentalmente all'estero. Vedo oggi un sorpasso importante dello United sul Paris Saint-Germain. Sul fronte invece di Luiz Alberto è più complicato. Lui ha un contratto comunque di altri, mi sembra, tre anni, 30 giugno 2025, con la Lazio e questi 30 milioni però sono tanti soldi di valutazione. Non so in Italia se c'è qualcuno che possa fare un investimento leggero. D'altra parte Lotito sconti non ne fa. Guarda quello che è successo l'anno scorso con Correa, è stato molto preciso, molto chiaro fin dall'inizio. 30 prendere o lasciare e 30 alla fine dite gli avversati. Prima parlavamo anche con Franco Zuccalà della situazione del Napoli, le dichiarazioni di ieri di De Laurentiis a proposito di Coulibaly, di Osimène. Che cosa aspettarsi dal mercato del Napoli, soprattutto in uscita? Ma io dal mercato del Napoli mi aspetto una situazione da tenere e da monitorare soprattutto per quanto riguarda Osimène, Lorenzo, perché Osimène è un giocatore che oggi ha molto mercato, potrebbe arrivare un'offerta anche da 100 milioni. Qui ci sono tre club, tutti e tre della Premier, tutte e tre in Inghilterra, Manchester United, Arsenal e Newcastle, che potrebbero avvicinarsi a questa cifra. Se questa cifra arriverà, io credo che il Napoli farà partire Osimène. Lì bisogna stare attenti anche a un primo nome, che è quello di Broia, attaccante albanese di proprietà del Chelsea. Io starei attento anche a Arnautovic se va via Mertens e poi c'è Fabian Ruiz che dal mio punto di vista è ancora molto in bilico come soluzione perché Fabian Ruiz oggi riceverà una proposta del Napoli per il rinnovo, non si sa se l'accetterà, se non l'accetterà verrà messa sul mercato, se lui non accetterà altre destinazioni. Sono curioso di vedere quello che succede eventualmente dal primo settembre in poi. Poi c'è anche un altro aspetto perché il Napoli deve risolvere la questione portiere. Meret ha un solo anno di contratto, Ospina è in scadenza, se rinnova Ospina Meret va via, se va via Ospina Meret magari può restare e devono trovare un altro portiere. Cambio argomento e parlo del Bologna perché ci si interroga ancora sul nome dell'allenatore del futuro dei Rosso Blu, Mikhailovich potrebbe rimanere ma in queste settimane comunque si è parlato anche di eventuali nuovi tecnici, si è parlato anche di De Zerbi. Cosa puoi dirci al riguardo? Ma ti dico che se fosse De Zerbi sarebbe un gran colpo per il Bologna perché comunque Roberto De Zerbi è un allenatore di primissima fascia, ha dimostrato di fare benissimo al Sassuolo, anche allo Shakhtar secondo me a parte la Champions League dove non è andato benissimo però comunque sia aveva già messo la sua impronta come allenatore per cui Roberto De Zerbi dal mio punto di vista rientrerà. Ecco, è evidente che insomma poi questo è un allenatore che può piacere molto, non è detto che possa avere subito dall'inizio un'occasione, poi magari potrebbe anche subentrare questo non è da escludere però se ci sarà la separazione tra il Bologna e il MIA e lo dice De Zerbi può essere una soluzione e sai lì dipenderà anche da quale direttore sportivo ci sarà perché se deciderà magari Giovanni Sartori direttore sportivo dell'Atlanta che a questo punto lascerà proprio il club nero-azzurro potrebbe avere magari in testa lui anche qualche altro nome però De Zerbi secondo me chi lo prende oggi fa un colpo importantissimo. Senti in chiusura ti chiedo anche come hai valutato le dichiarazioni di ieri da parte di Juric dopo la sconfitta con la Roma ha detto voglio portare in Europa il Torino però servono dieci giocatori se verrà acquistato Mandragora ne serviranno nove insomma sono dichiarazioni forti che poi bisogna vedere che riscontro avranno anche da parte della società sì questo è vero però questo è Juric cioè alla fine Juric non le manda a dire le cose insomma dovunque è andato anche a Verona se ti ricordi bene quando c'era a dire qualcosa l'ha detta a Torino se c'è qualcosa che non gli torna la dice lui lo dice sia ai suoi dirigenti e al suo presidente e poi lo dice anche ai giornalisti per cui insomma lui fa chiarezza a 360 gradi ha ragione perché comunque oggi il Torino è in una posizione di classifica nella quale per andare a lottare per l'Europa oppure salire di livello deve fare una campagna acquisti di un certo tipo poi non è detto che debbano spendere milioni e milioni di euro ma devono prendere dei giocatori funzionali e quindi Juric è chiaro a meno mettere avanti subito la realtà se vogliamo crescere serve questo se non vogliamo crescere possiamo rimanere così basta che lo diciamo e basta che andiamo avanti poi che Vagnati o Cairo possono più o meno aver gradito lo sapevano benissimo che quando insomma la scelta è andata su Juric questo era da mettere in conto cioè Juric è uno che non ha pelli sulla lingua che non ha nessun tipo di problema a dire quello che pensa lo dice tranquillamente porta a casa i risultati con il lavoro e quindi chi lo vuole sa che Juric è questo non è facile nella gestione delle dichiarazioni però sul campo è un bravissimo allenatore e quindi io credo che però al di là di quello che dice Juric al di là di quello che può pensare la società il Torino sicuramente ha bisogno di rinforzi per fare qualcosa di meglio rispetto a quello che è stato l'ultimo campionato che peraltro è stato decisamente migliore rispetto a quelli precedenti direttore sempre in forma grazie per il tuo contributo a presto grazie a te Lorenzo saluto a tutti ci sentiamo la prossima settimana l'abbraccio bene dunque dopo questa ampia chiacchierata con il direttore Cercarini siamo arrivati alla conclusione del TMV News grazie per averci seguito appuntamento a lunedì non mancate buona serata grazie per aver guardato